Vediamo la penisola iberica. Allora, in Spagna la lotta tra cristiani e mori durò molti secoli, infatti la riconquista da parte dei cristiani che volevano scacciare i mori, cioè gli arabi, che in Spagna prendono il nome di mori, si conclude nel 1212. La battaglia decisiva fu quella di Las Navas de Tolosa. I musulmani furono quindi sconfitti e scacciati dalla Spagna, anche se il loro dominio rimase in un regno, il regno di Granata. Questo regno durò a lungo, cioè fino al 1492, perché dobbiamo capire che la penisola iberica era divisa da quattro regni, il regno di Granata, Portogallo, Aragona e Castiglia. L'unificazione dei due regni, vedete ve l'ho messo qui, avviene nel 1469 grazie a un matrimonio politico tra aragonesi e castigliani. Dunque, dopo essersi unificati, nel 1469 i due regni, quello di Aragona e Castiglia, andarono a sconfiggere il regno di Granata e quindi scacciarono definitivamente gli arabi mori dalla penisola iberica. Quindi abbiamo detto che nella penisola iberica la riconquista spagnola avvenne nel 1212. Gli arabi avevano soltanto un piccolo regno, che era quello di Granata, che durò fino al 1492, anno in cui vennero cacciati gli arabi. Quindi è un anno molto importante perché Spagna e Portogallo si ingrandiranno le varie scoperte, questo poi lo studiare del prossimo anno. Infatti il 1492 è l'anno della conquista dell'America. Comunque, ciò che ci importa in questo momento è che gli aragonesi e i castigliani, possiamo chiamarli gli spagnoli, scacciarono gli ebrei e anche i musulmani. Quindi che cosa succede? Che Spagna e Portogallo si trasformano da territori divisi e governati da molti sovrani a monarchie nazionali. Quindi avviene anche la formazione della monarchia nazionale in Spagna, con un'unica lingua e religione cristiana. Infatti è per questo che cacciano gli ebrei e i musulmani. Quindi abbiamo visto che in Francia la formazione della monarchia assoluta avviene attraverso la guerra dei cent'anni, quindi sconfiggendo gli inglesi. In Inghilterra attraverso la guerra delle due rose, in Spagna attraverso la sconfitta e la cacciata degli arabi. Allora, questo vi prego di ascoltare, mi raccomando schematizzatevelo, vi darò degli esercizi in cui si richiede oltre un po' tutta questa parte, la formazione degli stati assoluti in generale, vi ho spiegato che era importante per loro per formare gli stati assoluti, la burocrazia, l'esercito, vi ricordate? E poi Francia, Inghilterra e penisola iberica. Vediamo anche il Sacro Romano Impero. Allora, il Sacro Romano Impero era una vasta area territoriale che inglobava la Germania, l'attuale Svizzera e l'Italia. Si era profondamente indebolito, infatti in Germania c'era l'insofferenza dei grandi feudatari, in Italia i comuni italiani si erano resi indipendenti. Nella Svizzera, nel 1315, gli svizzeri sconfissero gli asburgici a Morgarten, formando e estendendo il dominio dell'Unione Elvetica, della Confederazione Elvetica. Molto importante è il fatto che dal 1437 al 1806 la corona passa sempre agli Asburgi, quindi alla dinastia degli Asburgo, quindi abbiamo una predominanza dell'Austria nell'impero.